I sommozzatori indonesiani hanno recuperato la seconda scatola nera del volo AirAsia 8570 che si è schiantato nel mare di Java lo scorso 28 dicembre. Ora la lettura dei dati e delle registrazioni delle due scatole nere potranno aiutare a capire la dinamica e le cause dell'incidente. Le scatole nere sono state consegnate agli inquirenti.